Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per commentare il nono episodio di House of the Dragon, il penultimo episodio di questa avventura. Come sempre vi farò un commento, un'analisi di questo singolo episodio, come ho fatto per i precedenti e come farò anche per l'ultimo. Anche se per quanto riguarda l'ultimo episodio ho in serbo una piccola sorpresa, e infatti probabilmente, non è niente ancora di sicuro, ma probabilmente ci sarà una live con ospiti al posto del consueto video. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Bene, andiamo a parlare nel dettaglio di questa nona puntata. Mi è piaciuta? La risposta è sì, anche se ho qualche riserva di troppo. Puntata interamente concentrata sui verdi, nello specifico sul concilio verde, nei libri ancora più torbido di come ci è stato mostrato qui. Ho trovato molto belle le atmosfere sospese del momento, un momento in cui tutto può succedere, i nemici possono fuggire, gli amici possono tradire, il principe può essere ucciso, rimanere disperso oppure diventare re. A livello di eventi non accade moltissimo. Il re muore, c'è un colpo di stato, Egon diventa re e Renis fugge con il suo drago. Fine. La cosa bella della puntata infatti non sono tanto gli avvenimenti quanto questa atmosfera sospesa e piena di possibilità che spinge tutti oltre il limite. Otto fa cadere la maschera e svela il suo gioco al di là delle epocrisie decantate a sua figlia. Egon si nasconde e tenta di fuggire dalle sue responsabilità e dalla stessa corona. Aemond accarezza l'idea di diventare re a sua volta, liberandosi del fratello, e tutti vedono un'opportunità in quello spazio di tempo in cui il mondo esterno non sa. Ma questo spazio sospeso porta anche incertezza e scelte da fare. Vediamo molti inginocchiarsi, altri resistere, altri ancora provare a fuggire. Persino i due gemelli, Arrek e Enric, si schierano su fronti opposti. Viene chiesto ai personaggi e a noi spettatori di schierarci perché la guerra è alle porte. Tutto questo è reso magnificamente attraverso musiche, attraverso una regia che scivola tra i corridoi vuoti e induggia su ogni incertezza e su ogni possibilità. Purtroppo però il mio entusiasmo è mitigato dal solito problema, ovvero la rappresentazione eccessiva della violenza. Un esempio la scena in cui Christon Cole uccide Lord Beesbury senza che nessuno faccia un plissé praticamente, o quella con Laris che si tocca laddove non batte il sole mentre Alicent si toglie le scarpe e le calze. Sono scene eccessive e quasi grottesche, per nulla eleganti. E non è nemmeno quell'efferatezza che avevamo in Game of Thrones, che era un'efferatezza asciutta, immediata, reale. Qui è proprio un di più, un'efferatezza eccessiva, eclatante, sopra le righe. Come molti di voi hanno giustamente detto, è una precisa scelta stilistica degli autori della serie, che ahimè io non amo particolarmente. Avrei preferito infatti una resa un po' più sobria, ma tant'è. È una cosa che, grazie a Dio, mi disturba, ma non intacca la godibilità generale della serie, sulla quale comunque continuo ad avere un giudizio positivo. Come vi ho detto poi anche nello scorso episodio, non ho apprezzato particolarmente nemmeno la scelta dell'equivoco, ovvero il fatto che Alicent si senta giustificata in tutto ciò che fa da ciò che Viserys parrebbe averle detto in punto di morte. Ancora ancora avrei potuto accettare questa scelta dell'equivoco se Alicent avesse sfruttato le ultime parole di Viserys, e quindi l'equivoco, come facciata, come scusa dei suoi atteggiamenti. Per quello che invece vediamo all'interno della puntata, Alicent è realmente convinta della volontà di Viserys in punto di morte di designare suo figlio come legittimo erede al trono. E questo va a giustificare l'agire della regina, che sembra appunto muoversi e prendere decisioni solo a causa di ciò che Viserys le ha detto in punto di morte. E questo espediente non solo indebolisce le motivazioni della regina, ma va anche in contrasto con ciò che abbiamo visto fino a questo momento. Per tutte le puntate che ci hanno portato fin qui, Alicent era una fervente sostenitrice del diritto al trono di suo figlio, ma per quello che ci viene mostrato in questa puntata, sembra che non avesse considerato di fare qualcosa in merito prima che Viserys le desse il suo benestare. Per come è stata resa Alicent in questa puntata, pare proprio che non avesse mai preso in considerazione l'idea di un colpo di stato a favore di suo figlio. È scioccata quando suo padre e i membri del concilio parlano di questa idea. Capisco qual è l'intento alla base, ovvero quello di renderla un personaggio grigio, più sfaccettato e meno crudele della sua controparte cartacea. Ma ciò che ne risulta non è tanto un personaggio sfaccettato, quanto un personaggio molto ingenuo e pronto a credere alle scemenze di suo padre, o ancora peggio pronto a credere che tutto possa ormai risolversi con una stretta di mano o con una concessione in più. Un'ingenuità che sappiamo già è destinata a crollare, è destinata a crollare perché uno dei suoi alleati è Laris, che palesemente sta tramando anche alle sue spalle a favore di Otto. È destinata a crollare perché è impossibile che la situazione si risolva senza spargimenti di sangue. Quindi se da una parte apprezzo l'intento di rendere più tridimensionale questo personaggio, dall'altra non riesco a capire quale voglia essere la resa finale. Vogliono renderla un personaggio ottuso, eccessivamente ingenuo, oppure ce la stanno presentando così perché poi farà ancora più scalpore la sua discesa al lato oscuro. Non serve che vi dica che io apprezzerei molto di più questa seconda ipotesi. La presa di coscienza di Alicent in questo episodio è talmente ampia che la vediamo lottare ed opporsi per la prima volta in modo aperto a suo padre, al punto di arrivare a cercare separatamente Aegon. Ognuno dei due infatti sa che il primo che raggiungerà il principe potrà influenzarlo nelle decisioni future, e quindi in prima battuta nella decisione di uccidere o meno Rhaenyra. Ahimè io credo che Alicent abbia già perso in partenza. Abbiamo visto infatti un Aegon galvanizzato dalle urla della folla, galvanizzato dal potere già e dall'adorazione del pubblico. Non sarà difficile per Otto sfruttare questo elemento a suo favore, soprattutto quando dall'altra parte c'è una madre che ha sempre trattato con sufficienza Aegon, che l'ha sempre schiaffeggiato, che l'ha sempre sminuito anche in questa puntata. E quindi vediamo anche una lotta intestina di potere tra Otto e sua figlia, che va ad aggiungersi alle tensioni già esistenti, sia all'interno della stessa fazione verde, sia ovviamente le tensioni presenti tra verdi e neri. Per concludere poi sul personaggio di Alicent, voglio dire che se da una parte capisco e apprezzo l'intento nello scrivere, il personaggio in questo modo vogliono mostrarci due donne, Alicent e Rhaenyra, inserite in un contesto fortemente plasmato dal patriarcato. Ognuna delle due ha reagito a suo modo e a suo modo viene schiacciata. Rhaenyra viene letteralmente usurpata, Alicent raggirata, ingannata e usata da suo padre, ma anche da tutti gli uomini che la circondano, suoi figli compresi. Quindi l'intento di base lo apprezzo, ci sta. Ma questa è la danza dei draghi, quindi mi aspetto che prima o poi questi draghi danzino, non solo i figli rabbiosi ormai pronti alla guerra, ma anche le madri. Quindi capisco l'intento di mostrarci queste donne tridimensionali, così sfaccettate, a volte anche con molte debolezze, con molti difetti, con un ruolo non smaccatamente negativo. Ma quello che apprezzerei ancora di più è vedere come il sistema patriarcale, tutti i sostrati sociali che le circondano, poi le porteranno inevitabilmente a fare delle scelte terribili, le porteranno anche ad essere persone terribili. Io voglio vedere la discesa al lato scuro di queste due donne, non voglio che siano solo delle vittime degli eventi, voglio che a un certo punto reagiscano in modo attivo a questa violenza subita. Quindi su questa rappresentazione di Alicent non mi è dispiaciuta, mi ha fatto un po' sorcere il naso per i motivi che vi ho già detto, però mi riservo di vedere come la svilupperanno in futuro per dirvi poi in via definitiva se mi piace oppure no come l'hanno resa. Sicuramente apprezzo l'intento di rendere più profondi e più tridimensionali i personaggi che nella controparte cartacea erano veramente carta vivina. Diagon ne abbiamo parlato e mi è piaciuto tantissimo il suo voler fuggire dalle responsabilità, la sua caratterizzazione di bambino quasi in cerca dell'affetto paterno e che nel momento in cui si rende conto che quello che sua madre gli sta dicendo, ovvero che il padre l'ha designato come erede al trono, è vero, tra virgolette, e che non gli sta mentendo, accetta su di sé questa responsabilità. Dall'altra parte Aemond, spietato e terrificante, pensa di essere lui il degno erede al trono e per un attimo si comporta di conseguenza, vorrebbe far sparire suo fratello e prendere lui posto sul trono di spade. Al momento questo impulso resta ripresso, vediamo come evolverà in futuro, sicuramente sono molto incuriosita, al di là poi del fatto che ho già letto il libro, sono molto incuriosita di come svolgeranno le varie trame sia all'interno della famiglia sia nella lotta appunto tra neri e verdi. Elena continua a parlare della bestia sotto le assi e qui abbiamo scoperto di che bestia si trattasse, infatti vediamo Rhaenys in sella al suo drago che fugge dalla Fortezza Rossa, presumibilmente, come poi vediamo anche nel promo, per andare da Rhaenyra, per andare ad avvisarla di ciò che sta accadendo, non ha tantissimo senso che non abbia incenerito tutti all'istante, cioè capisco la volontà di rimanere neutra, tra virgolette, di non schierarsi in modo così definitivo, di non macchiarsi di un reato così grave, insomma avrebbe sterminato l'intera famiglia reale, o migliore delle ipotesi, solo quello che era appena stato incoronato come re dei Sette Regni, quindi capisco perché non lo ha fatto, però forse avrei reso la scena in modo diverso, perché non risultasse così evidente per lo spettatore quanto sarebbe stato facile per lei ucciderli tutti in quel momento. La Larba Bianca ha svolto il suo ruolo, ha tessuto la sua tela, ha avuto anche il suo compenso, non quello sperato, quindi io immagino che questo avrà delle conseguenze, sia breve che a lungo termine, sulla lealtà della donna. In generale staremo a vedere. Mai come in questa puntata, poi mi sono mancati i neri, Rhaenyra e tutta la sua famiglia, e questo non fa che rafforzare il mio affetto per loro, però devo dire che sono anche contenta di aver visto un'intera puntata dedicata ai verdi. Inizialmente pensavo che l'ultima sarebbe stata interamente dedicata ai neri, ma come forse ha più senso, le due fazioni cominceranno a scontrarsi in questo finale di stagione che dal promo sembra essere davvero scoppiettante. Non vedo l'ora di vederlo. Per concludere, la puntata mi è piaciuta, con tutte le riserve del caso, spero che l'ultima sia ancora meglio, sia ai livelli della precedente, sia ai livelli della quarta puntata, insomma faccia ancora di più per stupirci e prepararci alla stagione 2. Detto questo direi che ho concluso. Volevo farvi anche un video a parte su come è stato gestito il concilio verde nei libri. Fatemi sapere nei commenti se può interessarvi oppure no. Per qualsiasi cosa noi ci sentiamo nei commenti, fatemi sapere se avete visto la puntata, se non l'avete vista, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta e perché. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa perdere al prossimo video e ciao!